Bevanda antinfiammatoria a base di curcuma e latte di mandorle. Grazie alle proprietà dei suoi ingredienti, questa bevanda, oltre ad essere antinfiammatoria, ci aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Possiamo anche approfittarne per ottenere un apporto extra di energie e i problemi infiammatori che colpiscono la salute sono il risultato dello squilibrio causato da un'infezione o da un tessuto leso. Si tratta di una risposta difensiva dell'organismo che di solito si manifesta con episodi di dolore e pesantezza alle articolazioni e difficoltà nel compiere le attività quotidiane, tende a colpire con frequenza le articolazioni, anche se esercita un impatto negativo sulla salute muscolare e del sistema circolatorio. Difatti, è verificato che la ritenzione idrica ha molto a che vedere con la sua comparsa in varie zone del corpo. Anche se nella maggior parte dei casi scompare dopo qualche giorno, alcune malattie possono provocarla in maniera ricorrente, a tal punto da compromettere la qualità della vita. Per fortuna esistono metodi 100% naturali, la cui composizione aiuta a controllare i sintomi prima che si presentino delle complicazioni. Tra queste troviamo una bevanda a base di curcuma e latte di mandorle, riconosciuta per il suo valore nutritivo ed il suo potente effetto antinfiammatorio. Nel nostro spazio vi spieghiamo di cosa si tratta e come prepararla a casa in pochi semplici passaggi. Bevanda antinfiammatoria a base di curcuma e latte di mandorle La bevanda antinfiammatoria a base di curcuma e latte di mandorle, conosciuta anche come latte d'oro, è un antico rimedio che si utilizza per mantenere sotto controllo i dolori che colpiscono le articolazioni e i muscoli. È ricca di sostanze attive come la curcumina, apportata dalla curcuma, che le conferisce interessanti proprietà antiossidanti, calmanti e diuretiche, tutte necessarie al controllo dei processi infiammatori del corpo. È anche una fonte naturale di vitamine, minerali e fibre adatte a migliorare la digestione, la circolazione e altri processi importanti per preservare un funzionamento ottimale dell'organismo. Benefici della curcuma La curcuma è una delle radici medicinali più apprezzate nel catalogo dei rimedi alternativi e naturali. Già da centinaia di anni viene utilizzata per via delle sue proprietà nutritive, che le conferiscono un potente effetto antiossidante ed antinfiammatorio. Anche se è conosciuta soprattutto per i suoi usi culinari, è anche un ingrediente attivo per la preparazione di numerosissimi rimedi per trattare molte malattie. L'alta concentrazione di curcumina conferisce a questa spezia importanti effetti analgesici, che risultano benefici per placare i sintomi delle lesioni muscolari e dell'artrite. È ottima anche per combattere gli effetti causati dai radicali liberi, poiché inibisce la loro azione ed evita che causino il danno cellulare. Inoltre, apporta, proteine e fibre dietetiche vitamine, A, B, C, E, minerali, calcio, potassio, sodio, ferro, magnesio, zinco, benefici del latte di mandorle. Il latte di mandorle è divenuto famoso il tutto il mondo come alternativa al latte vaccino. È un latte vegetale, povero di calorie, la cui composizione è priva di conservanti, glutine e colesterolo. Apporta grandi quantità di vitamine, minerali e fibre, ottimi per proteggere la salute cardiaca, circolatoria ed articolare. La sua assunzione regolare riduce i livelli di colesterolo, migliore il flusso sanguigno verso le cellule ed aiuta ad eliminare i liquidi trattenuti nei tessuti, così da evitare gli squilibri infiammatori. Come preparare questa bevanda antinfiammatoria a base di curcuma e latte di mandorle? Questa deliziosa bevanda non è solo un rimedio per trattare i dolori associati ai disturbi infiammatori, ma anche un complemento per ricaricare di energie tutto il corpo. Contiene e carboidrati, proteine e grassi sani che aiutano ad incrementare il consumo energetico per migliorare la produttività fisica e mentale. È anche un eccellente supporto per il sistema immunitario, poiché evita l'abbassamento delle difese rispetto agli attacchi dei vari tipi di microorganismi. Ingredienti 3 bicchieri di latte di mandorle, 600 ml, 3 cucchiai di curcuma in polvere, 30 g, 1 cucchiaino di cannella, 5 g, 1 cucchiaio di miele, 25 g, procedimento Preparate il latte di mandorle, filtratelo e poi versatelo nel frullatore con la curcuma e la cannella. Una volta ottenuta una bevanda omogenea, addolcitela con un po' di miele. Servitella in un bicchiere ed assumetela di mattina. Potete anche berne un secondo bicchiere nel pomeriggio.